Un ristorante che crede nell'arte e che la ospita nei propri spazi. Zaza Ramen a Milano ha presentato due nuove opere di David Tremlett, artista inglese noto nel mondo per i suoi interventi murali, che per i dieci anni del locale ha realizzato due nuove wall drawing che dialogano con l'atmosfera del ristorante giapponese. Questo tipo di lavoro, ci ha spiegato Tremlett, mi è sembrato adatto al ristorante giapponese, perché c'è un modo di guardare alla parte centrale di entrambi i disegni che è piuttosto contemplativo, perché richiede una certa attenzione per capire in che modo e perché l'opera funziona. Il dialogo tra Zaza Ramen e gli artisti nasce dalla personalità del suo titolare, Brendan Becht, collezionista e amante della ricerca contemporanea. Il dialogo secondo me in questo caso è molto bello perché sono molto presenti e i suoi lavori sono veramente molto belli, in più c'è una differenza tra i due disegni che ha fatto, nella parte anteriore del ristorante, più vicino alla strada, più luminoso e nella parte più in fondo, un po' più serale. Quindi sono due ambienti proprio specifici, crea un ambiente caloroso, accogliente e noi già dopo quasi un mese che i lavori sono qua notiamo che tantissimi chiedono, guardano e sono interessati e curiosi. Tremlet aveva già lavorato con Becht e con Zaza Ramen e la mostra BBZ 3 ore 23, che sarà visibile fino al 21 aprile 2024, è accompagnata da un testo critico su Tremlet di Irene e Sofia Kovic.